Dalila Di Lazzaro, ecco quanto prende di pensione. Dalila Di Lazzaro è un'attrice italiana molto nota. Da diversi anni, però, non recita più. Il motivo è purtroppo legato ai problemi di salute che l'hanno colpita, causandole dei forti dolori cronici e non permettendole nemmeno di camminare. Più volte Dalila ha cercato di sensibilizzare su questa patologia, il dolore cronico, che è seguita all'incidente che l'ha colpita. Dalila, infatti, nel corso di un'intervista ha dichiarato che l'incidente l'ha colpita nel momento più magico della sua carriera, e non le ha permesso di andare avanti con il suo amato lavoro. La Di Lazzaro ha infatti rivelato di non essere arrivata a 40 anni di lavoro e di non avere perciò diritto alla pensione. Per questo motivo, ora non percepisce nulla. L'attrice ha sottolineato che, anche se avesse raggiunto la quota minima di età, non avrebbe comunque avuto una pensione dignitosa considerando anche le spese che non mancano per gestire i suoi sintomi. Dalila ha spiegato che le mancavano 10 anni di lavoro, e che molto spesso ha provato a chiedere un'integrazione per poter ottenere una cifra per andare avanti. L'attrice ha detto che, però, ogni volta che fa queste richieste le sembra di chiedere l'elemosina, e non ha mai nemmeno ottenuto niente. Nel corso dell'intervista, l'attrice ha anche parlato delle enormi spese a cui è dovuta andare incontro per cercare di curare il dolore cronico. Dalila Di Lazzaro è dovuta andare all'estero perché in Italia faticava a ricevere una diagnosi precisa. Per curarsi e per cercare di stare meglio con i dolori invalidanti di cui soffriva, ha dovuto spendere 750.000 euro. La Di Lazzaro ha spiegato che anche se ora cammina, e sembra non avere problemi, ancora adesso non è così. Infatti fatica a spostarsi ed ha bisogno di fare uso della morfina anche se si tratta di pochi passi. Il suo problema quindi non si è risolto e ci sono anche dei giorni più negativi in cui è costretta a trascorrere tutto il tempo a letto. Nonostante questo non può avere una pensione. Questo si inserisce nella polemica che dura da tempo, in merito alle scarse o nulle pensioni che talvolta ricevono i personaggi del mondo dello spettacolo. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate la drammatica storia di Dalila Di Lazzaro e sapevate questi dettagli sulla pensione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie! 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 Grazie!